Allora, ho trovato questa ragazza, chi è che sei? Io sono Anna Galli del ristorante commercio di Lugano Allora, l'ambrenedetto Lugano, vi faccio vedere la stazione dei bus di Lugano, ok? Allora, qui partono tutti i bus, vogliamo farvi vedere, come potete vedere, non c'è per terra un pezzo di carta Allora, qui di dietro ci sono gli autisti del bus, che anche loro sono tutti a livello, ok? Qui c'è un... Ciao, saluto al canale, tutto pulito qua, grande, grande amico mio Ok, adesso passa anche la polizia a livello, tutto controllato, guarda qui, guarda che controllo Inutile che vi dico che qua così pagano tutti il biglietto, ok? Non c'è per terra un pezzo di carta Allora, stazione dei bus, sempre qui a Lugano, volevo farvi vedere che non c'è per terra un pezzo di carta E qua c'è un mare di gente, eh? Anzi, non c'è per terra neanche un mozzicone, ma come mai? Qui la gente, in un posto dove c'è il 25% di stranieri, tutto è pulito, tutto è preciso, tutto è perfetto Come mai? Spiegatemelo voi come mai Lo metto su Facebook, facciamo una foto? Vai Ok Vai Sono un po' di ragazzi qui nel Ticino Io vengo da Lissa Ah, sei dell'italiano, grande, ciao Ah, aspetta, vieni Vieni, vieni Grande Ciao amico mio L'ombranetto Lugano è come Maradona Napoli L'ombranetto Lugano è come Maradona Napoli Sfido chiunque a venire a fare un giro con me Vediamo quanti fermano me per fare le foto È quando fermano gente che si spaccia per King E non è nessuno